incendi dolosi a pesaro in fiamme auto e cassonetti morto medico di 27 anni marotta e fano il lutto bollette tante attività rischiano di non aprire in autunno accordo trovato entro settembre aprirà lab vaccini ospitato a macchie multiservizi a fano scocca l'ora del 20esimo brodetto fest ben ritrovati su rossini tv ben ritrovati nel nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19 e 40 in replica alle 20 e 40 apriamo questa edizione parlando in questo primo servizio dei quattro incendi dolosi che sono avvenuti la scorsa notte proprio a pesaro vediamo ci troviamo a fianco di un cassonetto della raccolta differenziata della carta completamente annerito dalle fiamme che lo hanno avvolto nella notte appena trascorsa quello in questione è un cassonetto in via palestro uno dei tre cassonetti che sono stati dati alle fiamme in una nottata di incendi dolosi che si è verificata appunto nella notte appena trascorsa nottata di incendi in zona 5 torri dove piromani ignoti hanno appiccato il fuoco appunto a quattro cassonetti compresi fra la via palestro dove ci troviamo ma anche fra via nanter e via goito e caso ancora più grave hanno dato pure alle fiamme un'autovettura fiat 600 parcheggiata non lontano dagli stessi cassonetti i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il primo cassonetto all'1 e 10 dopo che è arrivata la chiamata d'allarme anche dagli stessi residenti ma i focolai sono spuntati via dopo via impegnando le squadre intervenute per le operazioni di spegnimento fino alle 3 e 50 di questa notte ed è dunque caccia al piromane o ai piromani vista la natura chiaramente dolosa di questi incendi che ha portato in nottata a intervenire anche pattuglia di polizia e carabinieri assieme ai vigili del fuoco che sia stata una bravata giovanile o un atto vandalico più grave resta la serietà dei reati che sono stati portati a conclusione in questa nottata Lutto e sgomento a Marotta è nella comunità di Sant'Orso a Fano per l'improvvisa morte di Marco Tiberi giovane medico di appena 27 anni stroncato da un malore poco dopo la fine del suo turno lavorativo nell'ambulatorio di Sant'Orso Tiberi residente a Marotta è stato trovato riverso sul volante della sua auto parcheggiata con lo sportello aperto non lontano dall'ambulatorio inutili tentativi di rianimazione del 118 allertati da commercianti della zona che hanno notato la scena una tragedia immane e inspiegabile per un ragazzo classe 1995 che aveva appena intrapreso la professione medica Ed ora cambiamo argomento sei mesi fa la Confcommercio pesarese si recò dal prefetto Tommaso Ricciardi con un faldone di bollette che mostravano gli insostenibili costi triplicati per le attività del territorio Ebbene sei mesi dopo Amerigo Varotti ci sottolinea in questa prossima intervista l'inconsistenza degli interventi fin qui portati avanti In questi mesi nulla è cambiato se non in negativo rispetto agli aumenti che già c'erano stati nel 2021 e che avevano trovato all'inizio del 2022 il primo picco in aumento Il prezzo dell'energia elettrica e del gas è continuato ad aumentare, continua ad aumentare A luglio abbiamo avuto veramente il picco più elevato ma non è finita perché già i dati della borsa olandese dimostrano che il gas continua ad aumentare il prezzo Purtroppo non è stato fatto nulla perché al di là delle chiacchiere dei 50 miliardi messi dal governo Per cercare di andare incontro le esigenze delle famiglie e delle imprese La maggior parte di queste risorse sono andate alle grandi aziende energivore e gasivore Con il credito d'imposta che in qualche modo ha salvato alcune delle grandi aziende Poco nulla è arrivato nelle tasche delle famiglie, nulla è arrivato nelle tasche delle piccole imprese E soprattutto non sono stati affrontati i veri nodi del problema Com'è pensabile che in Italia anche l'energia prodotta da fonti alternative e rinnovabili venga pagata come se prodotta dal gas Quindi legare il prezzo dell'energia elettrica al prezzo del gas è una follia solo italiana Che non riusciamo a far capire al governo dei migliori Che speriamo che in questi ultimi giorni di vita possa mettere in campo un decreto aiuti Che prevede il credito d'imposta per tutte le imprese, anche per le piccole imprese e non solamente per le grandi aziende E che venga eliminata questa stortura di legare il prezzo dell'energia elettrica al gas Anche perché diversamente non se ne esce La forte preoccupazione è che tante aziende dovranno chiudere Perché quando un piccolo ristorante si trova a dover pagare 11.000 euro di bolletta dell'energia elettrica nel mese di luglio Io non credo che abbia tante altre possibilità Se non chiudere i congelatori, chiudere i frigoriferi e chiudere la baracca perché non è pensabile Anche il turismo che quest'anno ha dato risultati positivi in termini di presenze E quando andremo a fare i conti albergo per albergo con gli aumenti che ci sono stati Che poi non sono solo quelli dell'energia elettrica Ma tutti i prodotti sono aumentati Per cui anche il dato delle presenze turistiche non so se riuscirà a pareggiare Quello che è l'incremento dei costi delle singole imprese Ecco l'estate è positiva per il turismo e la ristorazione Ma l'autunno con alberghi che potrebbero circoscrivere le aperture ai momenti clou E ristoranti che potrebbero circoscriverle ai weekend Potrebbe essere davvero uno scenario verosimile Sì, certo che ci sono delle difficoltà anche per fare queste cose che molti hanno preannunciato Penso a un ristorante che ha le celle frigorifere Non è che le può accendere e spegnere quando gli pare Anche perché ha del materiale Quindi è un'iniziativa questa che sicuramente molti vorranno attuare Quella di aprire meno giorni alla settimana Ma non so quanto potranno risparmiare in termini di costi Quindi la preoccupazione per un autunno Che si preannuncia molto difficile per le imprese Tutte le imprese in generale, le imprese del turismo Per un albergo magari è più facile Dice io chiudo l'albergo e quindi non ho più i costi della luce La luce dell'ascensore eccetera Per un ristorante è veramente molto molto difficile Il caro Energia è uno dei temi prioritari dei cittadini Che si aspettano risposte con le prossime elezioni Ne abbiamo parlato quindi con Marco Bentivogli Candidato del Partito Democratico al collegio uninominale del Senato Per le province di Pesaro e Urbino e Ancona Conosco bene questa regione Conosco Pesaro, conosco Ancona, conosco l'entroterra Ho fatto il segretario regionale dei metalmeccanici qui per otto anni Ho trovato una terra come sempre bellissima In cui però ci sono anche molte criticità che vanno affrontate Dalle questioni della sanità su cui si sta arretrando Alla sempre ormai storica necessità di superare l'isolamento con le infrastrutture E soprattutto immaginare un'idea di sviluppo e di lavoro Soprattutto per le nuove generazioni Ecco questa è una regione al momento di centrodestra Con un territorio, quello in particolare di Pesaro ma anche di Ancona Diciamo con una forte presenza del Partito Democratico Si parte da qui per continuare a fare A continuare quanto di buono è stato fatto dal partito in questo territorio Sicuramente le città sono ben amministrate Sono ben amministrate da tantissimi anni E qui c'è un buon governo delle città E ovviamente i sindaci sono la rete di prossimità Più vicina ai cittadini E ovvio che questo rappresenta una ossatura molto forte Alla regione il centrodestra c'è solo da due anni E insomma accanto alle promesse fatte due anni fa Adesso sostanzialmente la giunta regionale si smantella E prende il treno per Roma per andare alla Camera e al Senato Questo è un elemento di riflessione per i cittadini Perché dopo solo due anni in cui è stata chiesta una fiducia per cambiare la regione Andar via lascia qualche sospetto Proprio in termini di serietà Ecco per questo noi crediamo invece che bisogna Quando si decide di candidarsi Bisogna comunque sia fare un patto con i cittadini Sia eletti sia non eletti Per stare e restare insieme a loro Fino a poco tempo fa c'era la gestione della pandemia Ora sembra il caro energia il tema centrale Dal quale tanti si aspettano risposte in questa tornata elettorale Tanti si aspettano risposte È una patata bollente per chi andrà in Parlamento Non so quali sono i margini di manovra secondo lei in questo ambito Ma i margini di manovra ci sono Ed era esattamente l'iniziativa che il governo Draghi stava facendo a livello europeo Per un tetto europeo sul prezzo del gas e dell'energia elettrica A cui aggiungiamo la necessità di raddoppiare il credito d'imposta per le imprese Deve essere almeno oltre il 50% La necessità di disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quella del gas Dei canoni sociali per le fasce più deboli per poter comunque intervenire nell'immediato Per quelli che saranno i rincari da settembre E ovviamente gli interventi per le imprese più piccole e le imprese energivore Che in questa fase rischiano in alcuni casi di non riaprire dopo la pausa estiva O di riaprire e chiedere cassa integrazione Non c'è peggior cosa di avere cassa integrazione per cui stipendio ridotto Ore di lavoro in meno e i prezzi che invece continuano ad alzarsi E continuiamo a parlare di elezioni perché dal 26 settembre Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli potrebbe perdere mezza giunta Carloni, Castelli e Giorgia Latini infatti potrebbero andare in Parlamento Ma il governatore sembra aver già individuato i possibili sostituti Vediamo quali Dalle 26 settembre metà della giunta regionale di Francesco Acquaroli Potrebbe lasciare Palazzo Raffaello in direzione Roma Hanno infatti ottime chance di elezioni in Parlamento Il vicepresidente regionale Mirko Carloni L'assessore a cultura e istruzione Giorgia Latini E l'assessore al bilancio Guido Castelli Tre treni in partenza da Ancona alla capitale Più un quarto quello di Stefano Guzzipe, candidato per Forza Italia Che sembra ben più difficoltoso dei sopracitati Mezza giunta con le valigie può provocare sfasamenti sul percorso del governo regionale Che però gioca d'anticipo A inizio settimana Acquaroli ha intensificato le consultazioni interne Per farsi trovare pronto alla ripartenza regionale d'autunno Sostituti che in gran parte paiono già individuati con due esponenti della Lega E uno di Fratelli d'Italia a avvicendare altrettanti assessori con le valigie in mano I nomi forti sono quelli del consigliere in quota Lega Andrea Mari Antonini Al quale spetterebbero le deleghe di Carloni a sviluppo economico e agricoltura Così come nella Lega è forte il nome della dirigente regionale ai beni culturali Daniela Tisi Per sostituire Giorgia Latini Per Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli sembra in pole position per diventare assessore Ereditando le deleghe di Acquaroli a Turismo e Porto Mentre Acquaroli potrebbe prendersi la delica al bilancio di Castelli Giochi quasi fatti ma con tutte le incognite di 18 giorni di campagna elettorale Che possono essere ancora molto lunghi e suscettibili di ripensamenti Ed ora cambiamo argomento Dopo un prolungato tiro e molla l'area vasta 1 ha ufficializzato questo pomeriggio L'autorizzazione dal servizio urbanistica del comune di Pesaro Per l'utilizzo dell'auditorium di Marche Multiservizi in via Toscana Come nuovo centro vaccinale anti-covid per la città di Pesaro Superate dunque le noie burocratiche che avevano fin qui impedito il cambio di destinazione d'uso Ostacolando un accordo già in essere fra Asur e la disponibilità di Marche Multiservizi L'Asur ha comunicato che il via alle somministrazioni avverrà entro i primi di ottobre Con data di partenza ancora da definire E restando in argomento è stato ufficializzato oggi anche l'arrivo nelle Marche dei vaccini anti-covid Aggiornati alla variante Omicron 1 Dal 15 settembre si effettueranno le prime somministrazioni nelle postazioni vaccinali della Regione Esclusivamente come dose di richiamo a chi ha completato un ciclo di vaccinazione primaria Nei giorni scorsi ci siamo occupati dell'arrivo del circo a Pesaro Circo che mancava in città da otto anni Martedì l'assessore Aidi Morotti ha riferito ai nostri microfoni Che il comune si era espresso negativamente Avendo però mani legate a livello giuridico per impedirlo Sabato alle 16.30 all'indomani dell'apertura del circo Prevista per domani sera ci sarà un presidio animalista di pacifico dissenso Organizzato da OIPA per opporsi a uno spettacolo reputato diseducativo e contrario alla natura Degli animali selvatici Presidio che vi mostreremo poi nei nostri spazi informativi Ed ora ci spostiamo a Fano perché è tutto pronto per il Brodetto Fest Che domani inaugura ufficialmente la sua ventesima edizione Un compleanno a cifra tonda ma anche un parziale ritorno alle origini Ecco cosa rappresenta la ventesima edizione di Brodetto Fest In programma a Fano dal 9 all'11 settembre con un format che ricorda quello pre-Covid Dopo due anni di manifestazione durante i quali si è potuto degustare la tradizionale zuppa di pesce Soltanto nei locali aderenti Quest'anno ritorneremo a sentire il profumo di questo piatto al Lido di Fano Tornerà il palco centrale e il Brodetto verrà fatto dai pescatori direttamente Perciò non andremo a ostacolare il lavoro dei ristoratori Questo assolutamente nessuna concorrenza Però almeno una specie di street food o assaggio di Brodetto Quest'anno sarà al Lido Perciò per tutte e anche quelle persone Abbiamo pensato anche a tutte quelle persone che non abitualmente vanno al ristorante Avranno la possibilità di venire al Lido Assistere a dei interessanti talk show Cooking show di grandi chef Beh oltre a questo avranno la possibilità di ritornare ad assaggiare il Brodetto fanese Fatto dai pescatori E questa secondo me è la cosa più importante Organizzato da confesercenti Pesar Urbino e Comune di Fano Brodetto Fest alzerà il sipario alle ore 19 di venerdì 9 settembre Poi via con gli incontri, le degustazioni, i cooking show con grandi nomi dello spettacolo Come Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Vinicio Marchioni e l'immancabile Federico Quaranta Ma soprattutto con gli chef che hanno fatto la storia della cucina italiana Anche quest'anno spazio alla pizza e alla moretta fanese Senza dimenticare i laboratori per bambini di Brodetto & Kids, la Brodetto Cup di Windsurf Le uscite in barca e le escursioni di Brodetto Tour Il Brodetto è la storia della nostra marineria Tutti sanno che nasce proprio dal risultato del pesce povero Che oggi è diventato pesce ricco e prelibato Ma è un evento un po' per tutti i gusti Perché si parla di cucina, si parla di zuppe Ma si parla di vino, si parla di iniziative artistiche, musicali Quindi c'è un po' di tutto Ed è quello che mi piace sottolineare però Che è una manifestazione che anno dopo anno cresce Che sa mettere tutto insieme e coinvolge la città Coinvolge i ristoratori, insomma coinvolge un indotto Che è legato in qualche modo con il mare E soprattutto è raccontare noi stessi Raccontare il nostro rapporto con la nostra tradizione marinara Il nostro rapporto con il mare e con la pesca Soprattutto l'importanza per noi di destagionalizzare Perché arriva in un momento dove tutti hanno la sensazione Che la stagione sia finita Invece è la stagione continua Con la valorizzazione di alcune caratteristiche importanti La nostra gastronomia, la nostra marineria E quindi il lavoro fatto dalle nostre genti nel mare Ecco, quindi il Festival del Brodetto per noi Ha questo significato che è molto importante Tra l'altro abbiamo presentato un progetto molto importante Poco tempo fa Quindi la possibilità di un tour guidato E di visita al nostro porto E alle tradizioni marinare Tra l'altro durante il Festival del Brodetto Ci sarà una novità rispetto a questo tour Perché ci sarà un mezzo con dei video Che racconteranno questo particolare luogo E questa particolare tradizione della nostra città E sempre all'interno del Brodetto Presenteremo un altro progetto Un altro cluster della nostra città Che fanno gastronomica E sarà una rete dei ristoranti del mare Che vogliono valorizzare il pescato dell'Adriatico Le nostre tradizioni Quindi la possibilità di inquadrare Dei ristoratori, dei cuochi E le possibilità per i nostri turisti Ma anche per i cittadini della nostra città Di andare in dei locali Che insomma avranno un marchio di tutela Per le nostre tradizioni Dal 12 al 18 settembre Torna a Pesaro la Benelli Week La manifestazione organizzata da Registro Storico Benelli E Motoclub Tonino Benelli Radunerà gli appassionati di ogni marca E tipologia di motociclette In un'edizione dedicata all'indimenticato pilota Jarno Sarinen Quest'anno ricade infatti il cinquantesimo anniversario Dal trionfo della leggenda finlandese Al secondo Gran Premio Pesaro Mobili In sella alle Benelli 350 e 500 Di fronte ad un incredibile pubblico di casa Di oltre 40.000 persone Una ricorrenza che verrà celebrata Durante la Benelli Week 2022 Con un fitto programma di tour motociclistici Alla scoperta delle bellezze delle marche Sabato 20 settembre Si chiude l'estate di eventi di Cartoceto Con una festa in piazza Papa Giovanni Paolo II di Lucrezia In compagnia dell'imitatrice Emanuela Aureli E di un mix musicale tra tradizione e innovazione Nato da un progetto del corpo bandistico di Cartoceto In collaborazione con il DJ Corrado Cori Alle 21 ci sarà il concerto della formazione bandistica E poi alle 21.45 l'esilarante spettacolo di gag e imitazioni Di Emanuela Aureli Ed ora invece torniamo a Pesaro E vi segnaliamo un particolare appuntamento Che ci sarà questo weekend Dal titolo Magica Pesaro Questo evento celebrerà 45 anni di spettacoli Di maghi e prestigiatori della città di Pesaro Vediamo Il fascino e il mistero dei giochi di magia Saranno oggetto di rispolvero l'11 settembre All'evento di Magica Pesaro Organizzato dal ristorante La Giara di Arzilla E il club magico marchigiano Ezio Giulietti di Pesaro Trucchi e giochi di prestigio Che per una giornata intera Incanteranno e stupiranno i tanti partecipanti previsti Come ci spiega lo stesso presidente del club organizzatore Claudio Gatti L'evento è organizzato che la mattina dalle 11 avremo dei maghi Che fanno la micromagia all'aperto della Giara Se il tempo permettendo Oppure anche all'interno Man mano che vengono gli ospiti Poi dopo verso Per pranzo Anche quel close up Che si fa tavolo per tavola Contatto ravvicinato con le persone Quindi è un modo molto bello di vedere quest'arte Fino a finire il pomeriggio dopo il pranzo Con uno spettacolo che noi lo chiamiamo Magic Show Adesso vediamo se chiamarlo magari con il nome Magica Pesaro Proprio il nome dello spettacolo E fare la magia da parte di 4-5 soci fondatori antichi del club Che per l'occasione rispolverano il loro numero Quindi è un'occasione molto bella e interessante Di vedere anche questi vecchi personaggi E vi aspettate tanta partecipazione? Sì perché la magia poi ultimamente ha ripreso successo C'era stato un momento di calo anche a livello televisivo Invece adesso si sta riprendendo Grazie anche a quei programmi televisivi Dove dei maghi proprio spopolano E poi grazie anche al fatto che adesso vedi proprio Con internet, youtube Vedi proprio i maghi che fanno questi generi di magie Tra il pubblico, nelle piazze I giovani sono coinvolti, molto coinvolti Ecco se ci può togliere una curiosità Magari quali giochi verranno fatti Se ce ne può raccontare solamente uno Sì, dunque sicuramente c'è Andrea Truffa Infatti dicevi in arte Andrews Che ha un numero con le colombe Quindi la produzione di colombe Vedere le colombe che appaiono Poi spariscono magicamente È sempre un effetto Poi per i bambini è fondamentale E anche tante carte? Molte carte E concludiamo la nostra edizione del telegiornale La pietra fondante della prima edizione del memorial di calcio Intitolato a Costantino ed Enrico Un giovane arbitro e un giovane calciatore del territorio Prematuramente scomparsi per malattia La New Academy ha deciso di ricordarli Istituendo la prima edizione di un memorial Dedicato alla categoria esordienti misti 2010-2011 Con 12 squadre giovanili presenti a cominciare da big di Serie A Come Juventus e Atalanta Le motivazioni sono purtroppo la scomparsa di due ragazzi Prematuramente Quindi per far sì di non dimenticarli Di lasciarli sempre in mezzo a noi Abbiamo cercato di creare questo memorial Con un fine importante E lo scopo è quello di avere una raccolta fondi Per poi darla all'associazione Veronesi Per far sì che magari qualche ragazzo più fortunato Possa soppurire di questi fondi Costantino era un giovane arbitro Sicuramente un ragazzo dai valori importanti Dove credeva nella vita Ed era veramente una persona Un ragazzo che credeva anche nel sociale Enrico invece era un giocatore Veramente dalla voglia di vivere E dalla voglia di giocare Che aveva un sogno di giocare in squadre Magari più importanti E avevamo iniziato un percorso Che poi purtroppo la malattia ce l'ha fatto interrompere Il memorial si terrà dal 9 all'11 settembre Sui campi peseresi di Vismara e Santa Veneranda E sarà accompagnato da una raccolta fondi Destinata alla fondazione Umberto Veronesi Una formula che nella presentazione nel comune di Pesaro È stata applaudita anche dai vertici regionali del CONI Sono eventi che servono prima di tutto Per non dimenticare in questo caso Due ragazzi che sono venuti a mancare in un'età veramente prematura E il secondo luogo Quello che mi sta anche particolarmente a cuore Che in un momento difficilissimo per lo sport Così come in altri settori del nostro paese Le nostre società riescono comunque a mantenere Quella che è la loro peculiarità Cioè sempre quello di essere anche vicini a qualcun altro Di sostenere sempre chi ha più bisogno Rispetto anche al mondo sportivo In questo caso è per la fondazione Per la lotta al cancro Che è una spiaga del nostro paese Pertanto quando arriviamo a presentare un evento Rivolto ai giovani Un evento che ricorda due giovani prematuramente scomparsi Un evento che il suo ricavato non rimane in cassa alla società Ma va a favore di chi ha più bisogno rispetto a noi Penso che la presenza del CONI era perlomeno obbligatoria E da parte mia non potevo non essere qui al fianco Diciamo anche del delegato che è qui con me Per dire grazie agli organizzatori Memorial che è stato realizzato Grazie al sostegno di sponsor come Banca di Pesaro e Fisioradi Oltre naturalmente alla sentita partecipazione Delle società calcistiche coinvolte Devo ringraziare sicuramente Juventus, Atalanta, Parma, Perugia Il Rimini stesso, la Segato che arriva da Reggio Calabria O la Barletta o il Trestina che avviene dall'Umbria Il Perugia stesso O comunque il Villa San Martino del territorio La Vismara che comunque ci ospita e quindi ringraziamo assolutamente E non a meno la Santa Veneranda che comunque ospita il torneo nella struttura personale Quindi un grazie importante a tutti loro che hanno dato un contributo al Memorial Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale Però ci sono tante cose da segnalare questa sera Innanzitutto in prima serata Vi mostriamo l'ultima puntata della prima edizione di Green Tour La puntata è dedicata a Vallefoglia e Montelabate La trovate questa sera alle 21.20 E vi ricordiamo che a partire da martedì della prossima settimana Quindi martedì 13 settembre Invece c'è la seconda edizione di Green Tour E quindi la prima puntata di questa nuova stagione Sarà dedicata a San Lorenzo in campo Quindi vi aspettiamo alle 21.20 Domani vi ricordiamo Domani è venerdì alle 7.20 Torna la nostra rassegna stampa con Daniele Sacchi E sempre domani alle 17.30 La nostra consueta lettura e il commento al Vangelo della Domenica A cura di Don Marco Di Giorgio Vi ricordiamo anche che a partire da domani E per tutti i giorni del festival Quindi fino al 18 settembre Su Rossini TV ogni giorno alle 8 Intorno alle 8 del mattino e alle 13.45 Vedete degli spazi dedicati all'International Police Award Arts Festival Questo festival che per la prima volta viene a Pesaro Un festival di cinema, televisione, letteratura, musica, arte e sport In divisa Quindi non perdetevi questi appuntamenti su Rossini TV E invece sabato e domenica Vi ricordiamo che se vi siete persi i telegiornali durante la settimana Potete rivedere le notizie che abbiamo realizzati I servizi che ha realizzato tutta la redazione di Rossini TV Durante la settimana Li potrete vedere il fine settimana Sabato alle 19.30 E domenica alle 6.30 Alla mezza e alle 22 Ho detto davvero tutto carissimi amici Grazie per essere stati con noi anche questa sera Adesso vi lascio in compagnia del Meteo Grazie per essere stati con noi